e dopo l'assaggio dell'altra volta siamo qui per il pasto completo venite con me, passiamo all'altro magazzino grazie a questa marpa geomorfologica possiamo vedere ieri e oggi il ritiro del ghiaccio sopra le Alpi Giulia ciao, di cosa parla questo stand? allora questo è la stand della Cegas la Cegas è una multitudine del tempo era e praticamente questa è l'acqua che vengono ai vestiti e noi vediamo una borraccia e si può provare l'acqua c'è anche se sia naturale che se tante e l'acqua di Trieste è un'acqua molto buona infatti siamo molto fortunati ad averla siccome è oligominerale non ci sono minerali sciolti all'interno quindi è anche una scelta più convenibile bella fresca grazie mille e buon lavoro e poi arrivederci ciao, di cosa tratta questo stand? ciao, allora questo stand tratta di Elendra Elendra è un istituto internazionale per la ricerca sui materiali abbiamo due macchine una è Fermi, che è questa macchina lineare e l'altra è Elettra, che è la macchina circolare queste due macchine producono luce dove per luce si intende dall'infrarosso ovvero la luce quella che ti scalda diciamo così fino ai raggi X quelli che ti fanno la radiografia questa luce viene usata per sondare la materia vedere i materiali avere informazioni dai materiali in una maniera che non è altrimenti possibile in un laboratorio convenzionale questi materiali quali sono? praticamente tutti i materiali da materiali per elettronica a materiali per la medicina ai materiali per l'energia ai materiali intesi proprio anche come una persona abbiamo fatto alcune misure che erano in una linea di tomografia venivano dall'ospedale proprio per vedere una mammografia per farla meglio perché lo scopo di queste macchine è di riuscire a fare alcune cose che non sarebbe possibile fare e quindi dare la possibilità ai licenziati di vedere cose che non sarebbero in grado di vedere normalmente oppure di vederle meglio dalla tecnica di analisi del microscopio ad esempio che sarebbe a loro disposizione in un laboratorio o in un'università questa macchina funziona così bene che praticamente ce ne sono una ventina una trentina qua nell'entra ne abbiamo due siamo uno dei poteri che ne hanno due una sola abbiamo gente che viene dagli Stati Uniti abbiamo gente che viene dall'Australia abbiamo gente che viene da tutta Europa dall'Uniterra dalla Germania per usare queste macchine per riuscire a fare qualcosa di più nella loro ricerca e quindi fare un passo in più che altrimenti sarebbe difficile da fare proprio per la qualità della strumentazione che possiamo offrire alle persone che ne fanno richieste ma come vai stata scelta a Trieste per fare questa macchina di riuscire? Trieste è stata scelta anche per una serie di motivi pratici banalmente noi abbiamo dei microscopi che lavorano e gli microscopi se fai tremare qualche cosa vedi tutto sfocato il Carso che è dove ci troviamo c'è proprio il terreno dove ci troviamo ha delle caratteristiche di stabilità veramente veramente vantaggiose tanto che nei vent'anni di esistenza di questa macchina mentre gli altri sincrotroni le altre macchine in giro per l'Europa hanno dovuto più volte rimettersi a posto cioè riallinearsi noi non abbiamo mai avuto l'esigenza proprio per la solidità del terreno bianbiano questo è uno dei motivi per cui è qua grazie mille per averlo spiegato vengo questo è un rover il rover è un particolare tipo di robot che si utilizza generalmente nell'esplorazione esplorazione in questo caso spaziale quindi paghiamo Marte, Luna, asteroidi eventuali e così quello che vedete qua è un prototipo quello che si chiama in gerdo testbed quindi una piattaforma di sviluppo questo non volerà mai nel senso che non verrà mai mandato su un pianeta ma serve per fare delle prove e per sviluppare tecnologie innovative tecnologie che se funzionano poi verranno effettivamente in futuro impiegate nell'esplorazione di altri pianeti ok? in questo caso noi abbiamo stiamo studiando in questo particolare caso delle sospensioni particolari le vedete queste molle queste molle scure e servono per dare stabilità al carico essenzialmente quello è una linea di ricerca del professor Paolo Gallina sull'arte robotica ok? quindi noi quello che facciamo cerchiamo di trasferire le tecniche artistiche standard ad un robot e quindi ad esempio come vedete là ho un quadro fatto ad acquarello abbiamo la possibilità di farlo tramite penarelli ad esempio e spatolato che è una tecnica molto particolare che consiste nella spargere il coloro con delle piccole spatole e queste sono alcune delle cose che facciamo grazie mille per aver spiegato e per chi è nato tra uno stand e l'altro gustiamo la nostra Trieste solo qui potete trovare un prosciutto chimico di questo tutto sì grazie di cosa parla lo stand? ok questo stand rappresenta l'international center for theoretical physics siamo un centro di ricerca basato in Trieste in Grignano siamo qui per 50 anni e siamo speciali perché non solo dobbiamo studiare ma anche dobbiamo studiare scientifiche di tutto il mondo sviluppo sviluppo questi scientifiche sono stati che sono molto piccoli non hanno università non hanno molti studiare quindi noi portiamo a Trieste e le train così che possono tornare a loro e aiutare altri scienziati a imparare la fisica moderna grazie insomma sappiamo che l'OGS è di Trieste ma di che cosa tratta? allora intanto OGS vuol dire Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale e quindi tratta sia la geofisica e la oceanografia io sono oceanografa e ti parlerò un po' dell'oceanografia che vuol dire oceanografia fisica chimica biologica vuol dire andare a scoprire i vari di secondo perché noi siamo gestori dell'unica nave che va in antartide per tutti gli istituti di ricerca scientifici italiani la Laura Massi e quando appunto la nave va in antartide fa ricerche sia geofisica che oceanografica io diciamo della parte mia mi occupo della parte diciamo geografica quindi raccambiamo degli ambienti d'acqua e di viaggio e questi vengono poi analizzati per vedere poi l'aspetto biologico, l'aspetto fisico pure le salute che misurano la temperatura dell'acqua, misurano la temperatura di alta dell'acqua ed ci sono degli strumenti che vanno a fondo fino a migliaia di idee allora io sono Martina e sono geofisica e quindi mi occupo dello studio del sottosuolo con metodi geofisici cosa sono i metodi geofisici? sono quei metodi in cui noi investiamo la terra in modo indiretto in particolare usiamo le onde acustiche quindi il suono come quando abbiamo un problema fisico andiamo dal medico e ci fa una ecografia del nostro organo malato così noi usiamo lo stesso metodo però con frequenze diverse per studiare la terra possiamo investigare fino a diversi chilometri di profondità e qui ricapire come sono le strutture geologiche del sottosuolo appuntiamo questo metodo a diversi obiettivi ad esempio lo studio di come era il clima una volta quindi il paleo clima allo studio delle strutture tetoniche che si muovono e che si generano il carremoto e questo è un esempio di una sezione che noi chiamiamo sezione sismica che è appunto una sezione che si informa registrando le onde acustiche che si propagano nel suolo invece questa è un rilievo tridimensionale del fondo del mare che si ottiene come metodo sonar multifascio ringrazio veramente tanto queste donne scienziate anche perché in un campo come la scienza che non siamo sempre abituati a vedere delle figure femminili come scienziate invece guardate quanto sono esperte grazie mille grazie a voi ciao di cosa si occupa il vostro stand? allora la TENIT sviluppa e produce moduli wireless di diverse tecnologie non so se si può parlare dell'internet delle cose sono praticamente dei moduli che sono inseriti che sono diverse applicazioni facciamo un esempio semplice anche la vastoviglia che è già qui a casa che riesce a comandarlo a tanto tempo il smartphone e praticamente questi oggetti intelligenti comunicano attraverso la rete internet dove nasce l'azienda e dove si trova? allora noi siamo a Svunito qua a Svunito qui est e l'azienda nasce quasi una trentina di anni fa e abbiamo iniziato a fare telefoni cellulari poi nel tempo invece ci siamo convertiti nel mondo dell'internet delle cose e produciamo appunto questi moduli wireless grazie per presentare allora anche il vostro paese all'estero e grazie mille per il venuto c'è è stato un piacere grazie a te ciao 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 ciao